La mostra Tomorrow's Land of Water presenta il lavoro di quattro artiste, Lina Dib, artista canadese che vive negli Stati Uniti, Alberta Whittle, artista scozzese originaria delle Barbados, l'artista italiana Elena Mazzi e il collettivo di ricerca uzbeko Davra. Presenta i loro lavori che analizzano quattro case emblematici del rapporto tra l'uomo e l'ambiente con particolare attenzione all'acqua. All'interno del dibattito sulla crisi climatica, l'acqua in questa mostra mantiene e conserva il suo significato simbolico in quanto elemento di vita e di trasformazione, ma la scarsità delle risorse idriche trasforma anche l'acqua in uno dei tasselli fondamentali nella ridefinizione degli equilibri geopolitici mondiali. In mostra attraverserete diverse geografie a partire dall'opera in ingresso di Lina Dib che presenta un paesaggio altamente seducente per quanto tossico della costa del Golfo del Texas per passare poi alla zona centrale dell'Asia dove il collettivo di ricerca Davra ha analizzato il rapporto tra sfruttamento delle risorse idriche e lavoro femminile per arrivare alle zone dell'Artico con il lavoro di Elena Mazzi, zone oggi interessate da grandissimi interessi economici e politici ed infine nell'ultima sala il lavoro di Alberta Whittle intreccia le storie del colonialismo europee con quello del cambiamento climatico.